tutto pronto volano i cappucci si aprono le gabbie partiti cavalli della settima corsa yellow red dream è il più lesto a partire dallo steccato largo si porta a condurre anche se pur incontrando l'opposizione interna di ik bin ik ancora san casadora mamaluz sunday in paris percorsi più esterne poi di dentro ci va ablameluna con fiore di campo odessa ed agatarco a completare il quadro dei partecipanti si procede così tutti dietro a yellow red dream che è sempre saldo leader in seconda posizione c'è ik bin ik in terza corsia troviamo la figura di mamaluz che al suo esterno sunday in paris di dentro ablameluna poi san casadora odessa fiore di campo poi eto al denège ed agatarco che chiudono il quadro dei partecipanti tre quarti della piegata nessuna variazione di rilievo con yellow red dream sempre davanti gian pasquale foys che si guarda alle spalle in particolare ablameluna è la prima degli inseguitori percorsi esterne si fa sotto subito la minaccia di sunday in paris mamaluz che prova a filtrare tre cavalli gli altri che in questo momento sono veramente molto lontani allora yellow red dream ha dato un'altra scossa alla corsa spostandosi allo steccato opposto prova l'inseguimento interno fiore di campo ci prova anche sunday in paris ablameluna sembra avere esaurito lo spunto ma intanto yellow red dream si sta involando verso la meta 200 al traguardo è saldo saldissimo leader sunday in paris si deve accontentare del secondo così come fiore di campo per il terzo e yellow red dream sotto frusta realizza il colpo del giorno gamble landed da 16 a 250 yellow red dream vince da un capo all'altro nei confronti sunday in paris al terzo fiore di campo già pasquale foys in sella come detto il training è quello di paolo aragonico lori di luigi ginobbi 7 al primo posto quota in chiusura poi di 3 25 secondo per sunday in paris numero 1 dello schieramento poi vediamo per il terzo ma sicuramente c'è da raccontare della prima vittoria in carriera di yellow red dream al tredicesimo tentativo si tratta di un figlio di sea ange chiuso a favorito anche al totalizzatore 7 al primo posto 1 sunday in paris per il secondo e poi a titolo di cronaca terzo che adesso vedremo transitare sul traguardo che è fiore di campo da capanelle per la settima è tutto grazie a tutti